C'è l'ultimo in sopravvianza qualsiasi cosa succeda qualsiasi cosa succeda in sopravvianza C'è l'ultimo in sopravvianza. Gli occhi di un piede Gli occhi di un piede Gli occhi di un piede per fortuna l'abbiamo avventa, per fortuna l'abbiamo avventa, sono a sbroccare, per fortuna l'abbiamo avventa, sono a sbroccare veramente ora una raffagema, per la mia raffagema adesso non tirare troppo, infatti ci sta che sia morto, c'è ma infatti niente bravo, voglio preparare bene, non c'è questo, tutti e tre ci ha preso, tutti e tre ho, bravo Igor grandi, quanti sono forti che adesso loro stanno a 9 non so che fare signori, non so che fare, facciamole un altro, noi sbroghiamoci, beh tra l'altro, altri video che ho registrato oggi, che poi youtube me l'ha annullato, è andato tanto bene, ma molto tanto bene Igor, ti prego non accettare, ti prego non accettare grande anche io la 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 una bruttissima situazione e non ci dovessi c'era un forzo cioè non poteva andare bene la mia vita tanto se lo vedo che c'è oh oh basta adesso ci ultimo no no ce la fate dai ma ma dai ma su ma per favore dice no tipo questo gioco neanche prendo la faggia e mandiamo le altre in medicina Questa è una partita grande, che bella partita, io ci rinuncio raga, io ci rinuncio. E non lo gestiamo tutto bene, va tutto bene, sono semplicemente rabattissimi. Andiamo direttamente al raid, questo è l'ultimo, lo giuro. Se non vinciamo contro robot, difficoltà difficile, ci vedo il video, molto amoreggiato. E non so se non è una seconda, farci l'ultimo di disembruzzo, perché tanto si è davvero tranquillamente. Andiamo. Andiamo. Sono una venta di perfeggia. Guarda, che perfeggia. Grande, sono grande, non mi muove, non mi fa muovere. Allora, stiamo alla morte, un minuto e cinque, siamo, abbiamo perso, ovviamente, dobbiamo arrivare a portarlo al minuto e al cinquanta per cento, dai. Ok, robot ha corso male. Brava, rosa, occupa di quella. andiamo. E' ovunque. che non prendeva tutti i raggi Sì, per favore che non si arriva Dai, su, 72% 5 difficoltà esperta, quindi è un bel po' difficile mi sembra che molto, ma ti sei sicuro che c'era altra gente che la rappresentano forse si mette la mia 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 dai, 61% e dobbiamo farci l'ho perso che cosa che cosa c'è quel mini robot che fa facilissimo aspetta a morire non riesce non riesce ma dai non lo accetto c'è se il robot lo sperasse guarati sarebbe troppo semplice distruggerlo non riesce perché ci sono che non ha ora No, non c'è tutto l'occaso, non c'è un altro grattamento, non c'è tutto l'occaso, non c'è tutto l'occaso, non c'è tutto l'occaso. Non prendo il wifi, ovvio. Ok, non c'è tutto l'occaso. No, perché mi si è messo la macchina, non c'è tutto l'occaso, non c'è tutto l'occaso, non c'è tutto l'occaso. Grande, non c'è, grande. Ti devi mettere lo scudo e continuare a dargli i cazzotti. Non c'è tutto l'occaso, non c'è tutto l'occaso. questo è un po' grande cosa schiava? troppo forte dovremmo fare che non muoga il bullo che è ancora vivo e non ci muore purtroppo l'importante è che non morirà un bullo perché il bullo non muore la maggior parte del video che non ci ha visto no 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 ok 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 non c'è un'area di un attacca, non c'è un attacca di bio, guarda dai 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 dai, che è stato, dai non fa nemmeno seguito è proprio subito, quanto basso c'è stato qui, no vuoi fare scappa 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 dai scappa 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 Sì Bene Ragazzi Sto concluderti qui Abbiamo sconfitto Robert Per fortuna E Le altre partite Non sono andate molto bene Però ci accontentiamo Il prossimo video Che uscirà domani Sì Appunto faremo Perciò che uscirà domani E faremo Un chest opening Sì Perché penso che si Ricaricheranno I punti Questi qua non lo so Delle casse C'è sto con le 10 casse No Non ci troviamo niente Però è sempre bello farlo E Spero di arrivare a mille coppie Poi fitte Grazie